Buongiorno a tutti i miei nomi, tiziavati! Buongiorno a tutti i miei nomi, tiziavati! Benvenuti finalmente alla serie che volevo portare sul canale di GTA V Però non sarà una serie normalissima in cui faremo la storia Ma sarà una sorta di continua sopravvivenza alle mod che esistono a GTA V Infatti esistono mod che ti possono aiutare nel gioco come il teletrasporto Andrata da una parte all'altra velocemente dell'isola Oppure mod in cui troverete l'inferno Quest'oggi recenseremo e cercheremo di sopravvivere appunto Alla mod Angry Airplanes Ok ragazzi siamo pronti per provare questa mod Speriamo in dio che non andiamo subito a morire Ho preso una strada rettilinea perché è più semplice sopravvivere con dei cazzo assassini E infatti tra 3, 2, 1, F5 Angry planes on ragazzi In questo momento migliaia di aeroplani sponeranno sopra la mia testa E verranno a uccidermi Io direi di muovermi Iniziamo a muoverci Guardate lì I missili che arrivano Guardate sopra le mie teste L'inferno Gireremo per l'aeroporto Cercheremo di sopravvivere all'inferno All'olocausto degli aeroplani Guardatelo Oh mio dio Lì ci sono i jet che stanno arrivando Dobbiamo curvare la velocità della luce Via 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 Ok Curva fatta Dietro di me l'inferno Guardate La cosa brutta è che ti sparano pure E quindi c'è la cattiveria Adesso proviamo a sterzare Subito Eccoli Adesso vediamo una prima Guardate l'inferno Guardateli La cosa brutta è che loro non sanno fare le curve E si scontrano tra di loro Ci sono 50 aeroplani in questo momento dietro di me Tra aerei militari Aerei jet privati Tutto quello che volete Veloce 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 Porca puttanesca Ok ragazzi Abbiamo una macchina molto più veloce rispetto a prima Adesso ci posizioniamo In una partenza diciamo decente di questo aeroporto Adesso vedo da che parte potremmo partire Angry planes on Partito al minutaggio Dove sono gli aerei Eccoli là Eccoli là Eccoli là Eccoli là Li vedo sopra di me Dietro ai lati Ovunque Oh mio dio Questo di lato Questo di lato Dobbiamo curvare Dobbiamo curvare Dobbiamo curvare Dobbiamo curvare Giù 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 Corri come il dannato La cosa brutta è che sparano tantissimo Ne ho fatti spawnare troppi ragazzi Sono troppissimi Sono troppissimi Dopo devo provare con un aereo Ok Stiamo andando verso il fondo Intanto spara missili Ovviamente non si sa chi È l'aereo che è sopra di me Davanti abbiamo una C230 Ci prepariamo alla curva Curva Dai Dove la curva Oddio l'ho presa troppo Troppo interna Troppo interna Dai torretto Torretto dei miei stivali È troppo difficile È troppo difficile Ok ragazzi Siamo in volo In questo momento Faremo quello che abbiamo fatto prima Ma con un aereo Quindi cercheremo di sopravvivere Guidando un aereo Moriremo Sicuro 3 2 1 Angry planes on Ok Già vedo un aeroplano Là sul fondo Cattivo Cattivo Caccia Ok Cercheremo di sopravvivere Il più possibile Se guardiamo F5 Ne abbiamo già due Alle calcagna Via via Fuggi Guardate 1 2 Guardate come lanciano i missili Oddio oddio Ce n'è uno davanti Ce n'è uno davanti Fuoco Fuggi Oh mio dio L'inferno Giù Impicchiata Giù Impicchiata Giù Impicchiata Quanti ne ho di Oh mio Oddio È l'inferno Degli aeroplani Guardali Sono tantissimi Quello grosso Quello grosso Quello grosso Boom Baby Eliminato Intanto abbiamo davvero L'inferno Però stiamo ancora sorvolando Oh mio dio Un jumbo Guardatelo Guardate dietro Mi stanno seguendo Intanto ci ammazzano tra di loro Poretti Perché lanciano i missili E si ammazzano Guardalo quello lì Guardalo quello lì Guardalo quello lì Oh mio dio Mamma mia Che schivata Ragazzi La proagine Ok ragazzi Stiamo per fare Il finale Di questo video Spero vi sia piaciuto Vi ringrazio Per aver messo In caso Like a questo video E nulla Ci vediamo All'altro mondo Meno tre Due Uno Buttiamoci Quanti ne ho dietro Oh mio dio Missili Proviamo a girare Aspetta Cerchiamo Di far resistenza All'aria Via Ok Ok Vedo un po' di aerei Che stanno Sopra la mia testa Ragazzi Sto cercando Di fuggire Ma è impossibile L'unico modo per fuggire Andare sotto Sotto Lì dove c'è l'entrata Del treno Ragazzi Possiamo salvarci Possiamo salvarci Vai un bel 360 Un bel 360 Vedi i missili Arrivare Entra dentro Proprio lì Proprio lì Proprio lì Corri Corri Ragazzi Siamo riusciti A fuggire Dall'inferno Vi ringrazio Per aver visto Questo video Su GTA 5 Le mod Bizzarre Primo episodio Con la mod Angry Plains Spero vi sia piaciuto Se si Commentate E soprattutto Mettete un bel pollice in su Iscrivete Se siete nuovi E ci vediamo Domani Con un nuovo video Qui sul canale Dall'attività è tutto Ciao Adatti Pa Pa